pesca per pesci e se non servirà a nutrir nient'altro servirà a nutrir la mia vendetta ma sempre maltrattato come un cane mi ha fatto perdere mezzo milione ha riso delle mie perdite ha sghignazzato sopra i miei guadagni ho offeso ed oltraggiato la mia razza ma sempre ostacolato negli affari mi ha raffreddato tutte le amicizie e mi ha scaldato contro i miei nemici e già perché perché sono giudeo non ha occhi un giudeo un giudeo non ha le mani organi membra sensi affetti passioni non si alimenta dello stesso cibo non si ferisce con le stesse mani non è soggetto agli stessi malanni curato con le stesse medicine estate e inverno non son caldi e freddi per un giudeo come per un cristiano se ci pungete non facciamo sangue non moriamo se voi ci avvelenate dunque se ci offendete maltrattate non dovremmo pensare a vendicarci se siamo uguali a voi per tutto il resto vogliamo assomigliarvi pure in questo se un cristiano è oltreggiato da un ebreo qual è la sua virtù di tolleranza immediata vendetta onde un ebreo nel sentirsi oltreggiato da un cristiano come può dimostrarsi tollerante se non sul suo esempio vendicandosi io non faccio che mettere a profitto la villania che mi insegnate voi e sarà ben difficile per me rimanere al di sotto dei maestri io non faccio che mi insegnate voi per me rimanere al di sotto dei maestri